Buonasera, piccolo sfoghetto, piccolo sfoghettino, avete presente le scene quando un artista, un musicista, un cantante è con i parenti? Viene sempre il momento che qualche zia o qualche zia dica dai canta, 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 fai sentire come canti. Si comincia a cantare, ti canti sempre la solita canzone che hai imparato in una vita. Come sempre arriva il solito complimento, bravo eh, bravo eh, bravo eh, molto bravo, è bravo un cazzo, fa schifo, se uno fa schifo dovete dire fa schifo, no è bravo, a me capita quando suono nei locali che arriva uno, canta e il parente mi guarda e mi dice è bravo eh, bravo eh, bravo eh, no non è bravo, fa schifo, sarà bravo a fare altro, a cantare fa schifo, siate più sinceri cazzo, se uno fa schifo, fa schifo, punto. Non ci vuole più, buonasera.